Si è tenuta a Ovada sabato, in piazza Cereseto, l'inaugurazione della mostra patrocinata dal Comune e organizzata dalla sezione del CAI di Ovada, dedicata al socio Pietro Giannon, in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa. Foto e quadri raccolti in una mostra aperta ogni giorno fino all'8 dicembre, una spontanea testimonianza dell'affetto e della stima che i suoi amici del CAI avevano per lui. L'affluenza importante ha dato valore aggiunto all'evento. Risalta l'evidenza di un Pietro Giannon viaggiatore, amico e mentore, guida e stimolo per molti nella scoperta della montagna, accompagnatore in escursioni semplici o viaggi impignativi, in mette dietro l'angolo o dall'altra parte del mondo, sempre attento a raccogliere e a far sentire l'essenza della vita e della natura che ci circonda. Ogni amico di Pietro ha contribuito, ha portato il suo pezzettino. Sono qui raccolte preziose fotografie che aiutano a ricostruire il percorso della vita di Pietro, un ricordo che rimane in tutti loro oggi condiviso. A impreziosire il valore affettivo della mostra è stata presentata una pubblicazione curata da Giorgio Bello, Lino Cardona, Diego Cartasegna e Paolo Repetto, dal titolo emblematico A spasso con Pietro, una raccolta di pensieri dei suoi amici di sempre, editi per questa occasione unica e imperdibile. Apriamo ufficialmente la mostra con due parole di presentazione di Paolo Repetto. Direi che basta guardarsi intorno per vedere che era un'impronta forte ed è quella, diciamo, visibile esternamente, quella dei suoi quadri e quella delle foto. C'è un'impronta ancora più profonda che è quella che è rimasta dentro di noi, per cui davvero ogni volta che salto il tobbio in qualche maniera sono in compagnia sua e penso che continuerò ad essere uomo e penso che molti di noi continueranno ad essere uomo. A Pietro! Non solo memoria di un percorso di vita, ma anche stimolo per tutte le persone che amano la scoperta, un invito a conoscere un personaggio come Pietro Jannone, che nella sua caparbia ricerca dell'essenza della natura, ricercava anche l'essenza delle persone, trovandola e toccandola profondamente. Dalle opere pittoriche qui esposte, segno di tutti i periodi artistici di Pietro, si evince il percorso di Jannone, artista autodidatta. Un viaggio che non finisce mai, la gioia di essere libero, di non dovere arrivare, ma un invito a godersi ogni singolo attimo del suo conoscere. Un viaggio unico che ancora continua nei cuori di coloro che vogliono bene.